Inaugurato il nuovo parcheggio di via Medaglie d'Oro nel quartiere Santa Croce e Badia, l'opera è consistita nell'innalzamento di ulteriori due piani del parcheggio del centro storico che ha permesso così di raddoppiare la capienza dei posti auto passando da 100 a 195. I lavori sono iniziati a maggio del 2012 a tagliare il nastro il sindaco Campisi. Presente l'assessore ai lavori pubblici Carlo Giarratano, il direttore dei lavori, tecnico del comune Giorgio Salamanca, e il dirigente dell'ufficio tecnico Armando Amico. Da stamattina già sarà aperta al pubblico, sicuramente è una prima fase di sperimentazione, sarà presentata alla cittadinanza e quindi come si è espresso il sindaco sarà per ora gratuita. Dobbiamo definire i rapporti per la concessione del parcheggio e quindi è un modo come presentare alla città quest'opera che riteniamo di grande valore, di grande interesse per la città. Questa è una delle tante opere o delle prime opere che se ne seguiranno altre che mirano la rivalutazione del centro storico, il recupero. Chiaramente il parcheggio è un'opera fondamentale, essenziale, per poter parlare poi di altre attività, quella è la chiusura anche parziale del nostro centro storico, cioè ridare al centro storico un po' quello che è il suo ruolo, di far venire la gente, passaggiare e vivere un po' quelle che sono anche le nostre emergenze territoriali.